Ciao a tutti! Siete pronti ad immergervi nel fantastico mondo dei delfini? I delfini sono creature giocherellone che amano schizzare e saltare. Vivono negli oceani di tutto il mondo ed alcuni persino nei fiumi. Impariamo alcune curiosità su questi animali intelligenti e amichevoli. Preparatevi per un'avventura mentre esploriamo insieme il mondo dei delfini. Siete emozionati? Io sì! Sapevate che i delfini non sono pesci? Molti pensano che, poiché vivono nell'acqua, siano pesci, ma non è così. Sono mammiferi, proprio come te e me. Questo significa che condividono molte caratteristiche con noi. Infatti i delfini respirano aria con i polmoni, come facciamo noi, e non possono respirare sott'acqua come i pesci. I delfini devono salire in superficie per respirare. Questo è un comportamento che li distingue chiaramente dai pesci. Lo fanno attraverso un foro sopra la testa chiamato sfiatatoio. Questo sfiatatoio è essenziale per la loro sopravvivenza. È come il loro naso. Quando salgono in superficie, espellano l'acqua e inalano aria fresca. A differenza dei pesci che hanno le branchie, i delfini hanno bisogno di respirare aria per sopravvivere. Questo li rende unici nel loro ambiente acquatico. Esistono molti tipi diversi di delfini. Il più comune che tutti conosciamo si chiama Tursiope. Sono noti per le loro bocche lunghe che sembrano il collo di una bottiglia. I Tursiopi sono molto intelligenti. Possono persino imparare i loro nomi e riconoscersi allo specchio. Questi delfini giocosi amano cavalcare le onde e giocare con le alghe. I delfini sono animali molto sociali. Vivono insieme in gruppi chiamati branchi. Un branco può essere composto da pochi delfini o anche da centinaia. I delfini in un branco sono come una famiglia. Si aiutano a vicenda a trovare cibo e a stare al sicuro. I delfini comunicano tra loro usando fischi e click. È come la loro lingua speciale. I delfini sono cacciatori affamati. Amano mangiare pesce, calamari e gamberetti. Questi animali marini sono una parte essenziale della loro dieta quotidiana. I delfini hanno denti aguzzi che li aiutano a catturare le loro prede scivolose. Questi denti non sono usati per masticare, ma per afferrare e trattenere il cibo. Usano l'ecolocalizzazione per trovare il cibo. Questo metodo è incredibilmente efficace, permettendo loro di cacciare anche in condizioni di scarsa visibilità. L'ecolocalizzazione è come un superpotere. I delfini emettono una serie di suoni, come click e fischi, e ascoltano gli echi che rimbalzano. Questi echi forniscono informazioni dettagliate sull'ambiente circostante, come la posizione e la dimensione delle prede. Questo li aiuta a vedere ciò che li circonda e a trovare cibo anche in acque scure o torbide. Grazie a queste straordinarie abilità, i delfini sono tra i predatori più efficienti dell'oceano. I delfini sono nuotatori straordinari. Con la loro eleganza e velocità, sembrano quasi volare attraverso l'acqua. Possono trattenere il respiro a lungo e immergersi in profondità nell'oceano. Alcuni delfini possono trattenere il respiro per oltre 10 minuti. Sapevate che i delfini possono nuotare fino a 30 km all'ora? Questa velocità li rende tra i nuotatori più veloci del regno animale, più veloci della maggior parte delle barche. La loro agilità e potenza sono davvero impressionanti. I delfini sono creature incredibilmente intelligenti e giocherellone. Amano interagire tra di loro e con gli esseri umani. Portano gioia alle persone di tutto il mondo. Le loro esibizioni e la loro natura amichevole li rendono amati da tutti. Ricordatevi di essere gentili con i nostri amici dell'oceano e di aiutarci a proteggere la loro casa. Se ti sta piacendo il nostro lavoro, non dimenticare di mettere mi piace al video e iscriverti al canale. Grazie! Bene amici esploratori, questa avventura sta per finire. Nelle prossime settimane ci immergeremo nel mondo delle balene, i giganti gentili del mare. Non perdete i prossimi episodi. A presto!